aiutare i piccoli dai 7 ai 13 anni ad affacciarsi al mondo della tecnologia facendo comprendere loro le basi della programmazione con giochi e momenti ludici sbarca anche a barletta il progetto coder dojo si tratta dei club gratuiti sempre più diffusi in tutto il mondo nati con l'obiettivo di educare i ragazzi all'uso consapevole e costruttivo della tecnologia nella città della disfide il primo evento in programma già domani presso la sala didattica del castello svevo per delle iniziative che sono state perseguite fortemente volute dall'associazione di promozione sociale e makers in prima linea nel sostenere lo sviluppo della cultura digitale sul territorio il coder dojo barletta arriva per la prima volta qui a barletta ma è un evento che nasce nel 2011 in irlanda e velocemente si è evoluto in tutto il mondo infatti un sacco di club indipendenti poi hanno subito colto questa appunto richiesta per portare questo evento che si occupa fondamentalmente di coding robotica e insegna comunque i ragazzi in questo caso del coder dojo barletta bambini ragazzi dai 7 ai 13 anni le basi della programmazione ovviamente lo facciamo tramite l'utilizzo di software appositamente creati dall'm it di boston e fondamentalmente passano per quello che è l'approccio ludico cosa potranno trovare i bambini quando verranno da voi sicuramente un ambiente di apprendimento molto divertente perché comunque cerchiamo sempre di metterli al loro agio e di creare un ambiente di apprendimento appunto che sia il più tranquillo possibile diverso dall'ambiente scolastico che crea proprio quasi un distacco tra l'alunno e il docente in questo caso noi ci chiamiamo mentor diciamo così però non siamo loro loro insegnanti siamo loro pari tra gli eventi già fissati quelli del 10 novembre del 15 dicembre ma l'avvio del progetto avverrà già domani a svelare quelle che saranno le attività è stata l'insegnante maria carla fiorella ci sarà un insegnante che insegnerà loro le basi della programmazione ovvero attraverso si spiegherà proprio da che cosa è composta dopodiché si avrà un programma un programma sulla quale loro andranno a inventare qualcosa di loro e con scratch noi useremo un software che si chiama scratch che appunto è utilizzare una programmazione a blocchi e creeranno quello che vogliono seguendo un determinato tema in questo caso quello che si svolgerà il 13 ottobre che l'argomento saranno dei labirinti in cui loro dovranno dimisti diciamo dovranno trovare un modo per uscirne e saranno proprio loro che dovranno capire la loro via d'uscita